Assessore Doporrogo, vi eravate subito attivati per eseguire dei rilievi, però questi esami hanno richiesto del tempo. Che cosa è emerso? Sì, gli esami hanno richiesto del tempo. Sono stati effettuati da ARPAM, che è un organismo certificato a cui ci riferiamo sempre, perché per normativa noi dobbiamo riferirci ad ARPAM. E' emerso che non ci sono particolari criticità e problematicità dagli esami delle polveri sottili, dei metalli pesanti e così via. Se volete poi vi leggo anche i risultati che ci ha spedito ARPAM. Che cosa viene indicato? Allora, anzitutto si riassume dove sono state fatte le analisi. Quindi ci sono state tre zone di analisi. Uno all'ingresso degli uffici della ditta Profilglasi via Meda. Uno all'ingresso della ditta Ufficio Eurotubi SRL in via Filippini e l'altro nel luogo dell'incendio presso il laminatoio Cold 01, l'845. Quindi questi sono stati i tre punti più critici in cui abbiamo fatto le analisi, che si vanno a sommare a quelle delle nostre centraline, che però come detto erano sopravento. Quindi rischiavano di non essere veritere e troppo cautelative. Invece abbiamo voluto, in accordo con ARPAM, essere più dettagliati e precisi possibili. Le analisi sono state fatte nel giorno del 27 e poi ripetute nel 28. Ci sono stati diversi campionamenti per le polveri totali e poi i prelievi con campionamenti passivi da radaello. E quindi da qui sono emersi i vari risultati. Per quanto riguarda le sostanze organiche e volatili, denominate SOV, tutti i campionamenti hanno fornito concentrazioni inferiori ai limiti di quantificazioni. I valori rilevati per i parametri di benzene, tuolene, stilene nei campionamenti di più lunga durata sono risultati inferiori alle concentrazioni indicate dalle linee guida dell'OMS, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E quindi questo è un primo risultato positivo. Per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici, denominati IPA, anche in questo caso i limiti restano entro quelli della normativa. Ci sono altri risultati? Altro risultato riguardano i metalli pesanti. Anche per quanto riguarda i metalli pesanti non si superano i limiti. Noi tra l'altro abbiamo eseguito dei rilievi a favore di sicurezza, quindi concentrandoci su indicatori più restrittivi. L'ARPAM ci segnala che non si evidenziano particolari problematicità in riferimento ai parametri rilevati in area e in area ambiente a seguito dell'incendio corso nella città. Quindi abbiamo cercato di fare le analisi al meglio. Ringraziamo tutti gli interessati, a cominciare da ARPAM, agli uffici ambiente del quale ricopro l'assessorato, ma ringrazio i tecnici che hanno fatto un ottimo lavoro. E ringrazio anche la ditta Profiglas che si è dimostrata molto professionale nel risolvere subito la criticità.